Ciao Sei tornato? Come è andato lo spettacolo? Bene È durato parecchio, eh? Abbastanza Senti, Claudia è stata brava, sì? In genere, proprio lo spettacolo è stato bello Ma non mi aspettavo di trovarti in piedi Pensavo a letto, ti sei ripresa allora Sì, sì, mi sono sentita meglio e ho pensato di organizzare una bella scenetta Però adesso io me la metto un po' sul letto perché sto un po' stanco, ok? Ah Ehi È tutto a posto? Avrai detto siano due parole da quando sei arrivato È tutto a posto, ma perché? No, vabbè Hai visto? L'ha fatto loro Hai visto come è diventato bravo il nostro figlio? Siamo tutti e tre Bello, eh? Ho fatto un bel disegno Ho fatto un bel disegno Ma lei chiudeva un po' gli occhi a due minuti Sì Sì Io ho provato a fare finta di niente Però non è giusto Non è giusto per me, non è giusto per Lollo Guido dimmi la verità Guardami negli occhi Tu sei innamorato di Claudio Buongiorno Grazie a tutti.